Nel 1994 vede la luce un fortunatissimo testo, un pamflet di Norberto Bobbio intitolato Destra e Sinistra. Certamente non è l'opera più rilevante della produzione di Norberto Bobbio, sicuramente però è il testo che ha avuto più successo anche al di là della cerchia degli addetti ai lavori, divenendo un vero e proprio manifesto politico che poi ha attivato anche un dibattito piuttosto articolato. In questo testo Norberto Bobbio discute della vigenza della dicotomia destra e sinistra. Il suo tentativo teorico è quello di mostrare a che destra e sinistra sono ancora valide, a dispetto di quanti vanno sostenendo essere tramontata la dicotomia destra-sinistra o non aver mai avuto senso propriamente, e b Norberto Bobbio sulla scorta della dimostrazione dell'esistenza tuttora in corso di destra e sinistra prova a individuare l'essenza di ciascuna delle due parti mostrando appunto in cosa si distinguono destra e sinistra. Norberto Bobbio cerca come sempre di far valere una prospettiva non valutativa, una prospettiva wertfrei per dirla con Max Weber, ben sapendo che destra e sinistra istituiscono una polarità oppositiva di tipo totale e che di più la definizione che noi diamo di destra e sinistra implica già, presuppone già il nostro appartenere a una o all'altra delle due parti. Cosicché in qualche modo il dibattito intorno a destra e sinistra è sempre viziato dalla prospettiva di chi lo sviluppa. Se si è di destra si dà una definizione di destra e sinistra tale per cui la parte buona è quella destra e la polarità opposta alla sinistra è quella negativa e viceversa se si è di sinistra si tende a presentare la sinistra come la parte buona e la destra come quella cattiva. Detto altrimenti il fatto che si sia di destra o di sinistra determina già il modo stesso in cui definiamo destra e sinistra necessariamente assegnando la parte buona a una e la parte cattiva all'altra. Norberto Bobbio prova a liberarsi da questa contraddizione, da questo paradosso e prova a rivendicare un'istanza di tipo descrittivo dicendo che certamente sulla base di questa descrizione poi si potrà meglio ritenere l'essere di destra o l'essere di sinistra però è possibile individuare in maniera avalutativa con il camice dello scienziato libero da passione politica si potrà individuare il quid proprium sia della destra sia della sinistra. Norberto Bobbio discutendo tutta una serie di tesi e di autori legati anche al dibattito del tempo Marco Revelli, Galeotti e tante altre figure del dibattito del tempo di fatto arriva a individuare l'essenza della destra e della sinistra in una divisione fondamentale. In sintesi secondo la tesi di Bobbio la sinistra è da sempre paladina dell'uguaglianza, la destra è paladina della disuguaglianza, quindi per la sinistra il valore fondamentale è l'essere uguali, l'eguale libertà, per la destra invece è la disuguaglianza, la difesa dell'individuo contro l'idea stessa di una uguaglianza di tutti. Norberto Bobbio evita accuratamente di prendere in esame il concetto di libertà perché un'altra possibile ermeneutica sarebbe quella che intendesse la sinistra come il luogo dell'uguaglianza e la destra come il luogo della libertà, ma spiega Bobbio in realtà la libertà viene valorizzata come proprio riferimento tanto dalla sinistra quanto dalla destra e non è quindi la libertà il concetto fondamentale per distinguere le due posizioni e già qui naturalmente vi sarebbe da discutere perché la tesi di Norberto Bobbio, qui veniamo a un tema non trascurabile, in realtà sembra già essere essa stessa fatta per giustificare la sinistra e delegittimare la destra e quindi anche Norberto Bobbio nonostante le buone intenzioni sembra ricadere nel dispositivo paradossale di cui dicevamo, per cui la definizione stessa che diamo di destra e sinistra già risente del nostro posizionamento e finisce a priori per assegnare la parte buona alla destra o alla sinistra a seconda di quale sia il nostro orientamento e dato che Norberto Bobbio mai fece mistero di essere di sinistra, di essere un liberale di sinistra, un social liberale, evidentemente anche il suo impianto concettuale finisce più o meno apertamente per ammettere a priori la bontà di una parte, la sinistra e la non bontà pur non demonizzandola, si intende, della destra. Ora la teoria di Norberto Bobbio ha attivato, dicevo, un dibattito molto articolato, non convince chi vi sta parlando per più motivi, in primis per questo modus operandi tipicamente kantiano di Bobbio che procede con categorie sovrastoriche e pretende poi quasi fossero griglie preordinate di interpretare la realtà, quasi come se l'intera storia umana si lasciasse dividere secondo la contrapposizione fra chi è per l'uguaglianza e chi non è per l'uguaglianza, dal tempo di Spartaco fino al 1994 in cui Norberto Bobbio scrive il suo fortunato pamphlet. Questo è un primo aspetto, meglio sarebbe procedere in maniera storica e quindi ragionare con categorie storiche, non sovrastoriche, di tipo formalistiche, di tipo kantiano. E questo è un primo aspetto, quindi bisognerebbe forse utilizzare categorie più hegelo-marxiane che non kantiano-kelseniane, per citare una coppia di autori particolarmente cara a Bobbio. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che la dottrina di Bobbio, centrata sul valore dell'uguaglianza, tende di fatto a farci capire però un aspetto fondamentale, ossia il perché la globalizzazione capitalistica contemporanea sia gauchiste o propriamente utilizzi categorie di sinistra per giustificare se stessa. Il vecchio capitalismo nazionalistico novecentesco era indubbiamente un capitalismo più di destra, che si fondava su un apparato concettuale più tradizionalmente di destra, Savasandir. Dal 68 in poi e fino al 94 in cui scrive Bobbio in maniera conclamata, il capitalismo tende a giustificarsi sempre più con un discorso invece più apertamente di sinistra, almeno sul piano politico-culturale. Su quello economico resta chiaramente un discorso di destra, della destra mercatista, della destra deregolamentatrice, della destra che poi sarà tacceriana e reganiana. Sul piano culturale e politico diventa invece gauchisti il capitalismo, cioè di fatto trova un alto tasso di compatibilità con l'idea cosmopolitica, con l'idea dell'uguaglianza rideclinata come omologazione planetaria. In sostanza il capitalismo sembra accomodarsi su tesi di sinistra trovando in esse maggiore compatibilità nella fase ulteriore del proprio sviluppo. Se nel primo novecento si trovava più a suo agio con le categorie della destra, nel secondo novecento e a maggior ragione poi nel nuovo millennio, anche dopo le analisi di Bobbio, sembrerà trovarsi più a proprio agio con categorie stricto senso di sinistra. Ad esempio l'idea di uguaglianza oggi viene metabolizzata dal sistema della produzione capitalistica come omologazione, come livellamento, come eguagliamento sotto il segno della forma merce, cioè sotto riduzione del mondo intero al medesimo, reduxio ad unum, così potrebbe anche essere intesa la globalizzazione mercatista. Ecco perché questa categoria di uguaglianza così intesa richiederebbe di essere meglio analizzata e meglio compresa, soprattutto andrebbe meglio storicamente articolata e questo a nostro giudizio è uno dei limiti della pur pregevolissima analisi di Norberto Bobbio.